Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove ci sono rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. In A12 i lavori per il ripristino di un incidente tra i chilometri 110 e 100 e 110 e 200 tra Carrara e Massa in direzione Rosignano. Sulla statale Trebbi Stivelina fino alle 18 del 26 ottobre tratto e svincolo chiusi per lavori tra Val Savignone e Pieve Santo Stefano Nord tra i chilometri 158 e 200 e 158 e 20. Per questi lavori è attivo uno scambio di carreggiata tra i chilometri 159 e 650 e 157 e 800 tra Canili e Pieve Santo Stefano Nord in direzione Viterbo Terni. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!